Questo è Luca, il nostro figlio, un bimbo di quasi sei anni. Lui è affetto da atrofia muscolare spinale, fin dalla nascita. Noi l'abbiamo curato e l'abbiamo cresciuto con amore, dandogli le migliori cure possibili. Ma oggi forse Luca ha una piccola speranza, una speranza di poter avere una qualità di vita migliore, migliore di quella che ha passato fino ad oggi. Questa speranza si chiama Zolgesma, che è una cura genetica, la prima cura genetica per questa malattia, che può veramente migliorargli la qualità di vita tantissimo, perché lui è un bimbo allettato, non può stare seduto, non mangia, non parla, non tiene la testolina. Con questa nuova terapia potrebbe migliorare tante cose, riprendere a mangiare, potrebbe riprendere a parlare, potrebbe fare tante cose che in questo momento non può fare. Questo farmaco purtroppo è uno dei più costosi, uno dei più costosi, anzi il più costoso, che costa circa 2 milioni e 100 mila dollari. E c'è un'altra cosa, perché questo farmaco viene stato autorizzato dal Lema in tutti gli Stati membri per tutti i bambini fino a 21 kg di peso. In Italia purtroppo viene concesso solo ai bambini fino a 6 mesi di età, quindi Luca non rientra, mentre se fosse nato in Germania, in Francia o in qualche altro Stato europeo avrebbe già preso questa terapia e questo noi non lo possiamo accettare. Per questo abbiamo deciso di raccogliere una raccolta fondi per raggiungere la somma e portare il nostro figlio in Germania e dargli questa opportunità che gli vuole veramente cambiare la vita. Grazie a tutti per l'aiuto che ci state dando, perché siete in tanti, veramente in tanti che ci state sostenendo in questa nostra battaglia, perché la vita di un bambino non ha prezzo e qualsiasi cifra deve essere spesa per dare la possibilità a questi bambini di vivere una vita tibidosa e magari con un pizzico di sorrisi sempre. Grazie. Grazie.